Parliamo brevemente dell'obiettivo, ma gli ascoltatori lo conoscono bene, anche chi ascolta, solo per sbaglio, magari mentre è in auto e per caso, tac, la frequenza è quella di Radiomaria, dopo qualche secondo Radiomaria la riconosce all'istante, cioè uno dice questa è Radiomaria, dopo pochi secondi, anche se non la conosce di fatto. E capisce che Radiomaria ha una sua unica e precisa identità, è unica nel mondo radiofonico e nel mondo è ovunque così. Perché? Perché l'anima di Radiomaria qual è? È l'amore per la Madonna, l'amore per la Madre di Dio. Radiomaria nasce in Italia, poi nei cinque continenti, proprio sotto la spinta di questo amore per la Madonna. Ma non sto parlando, non sto dicendo, facendo riferimento solo a noi, no? No, no, è chi ha diffuso Radiomaria? I suoi ascoltatori, perché hanno capito che qui c'è l'amore per la Madre di Dio, che è la Madre della Chiesa. Quindi sotto questa spinta Radiomaria è volata per il mondo e senza questo amore per la Madonna, che è la Madre della Chiesa, Radiomaria sarebbe una realtà inspiegabile, impossibile. Quindi l'obiettivo, qual è il nostro obiettivo? È aiutare la Madonna nell'opera della salvezza delle anime. Se questo principio svanisse e ci mettessimo a qualcosa d'altro, Radiomaria passirebbe come un fiore senza acqua. Dio sceglie gli strumenti più semplici per incontrare gli uomini. Ha usato il libro per comunicare la sua parola e ha usato la predicazione per diffonderla. Ecco, quindi l'annunciare il Vangelo, l'annuncio della parola di Dio, è questo grande mezzo usato dal Signore e poi dai Suoi Apostoli. Lo ha detto chiaro, proprio ha consegnato la missione. Andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. In questo mandato c'è tutto. Andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Ecco, la radio è un mezzo semplicissimo, efficace per diffondere il Vangelo. È uno strumento per sua natura missionario perché raggiunge le persone ovunque si trovino e la voce poi arriva fino al cuore e lo interpella. Quindi qual è l'obiettivo di Radiomeria? È quello di aiutare le anime, le persone, le anime, a cercare e trovare il senso della vita alla luce della buona novella del Vangelo di Gesù. E attraverso le trasmissioni Radiomaria si propone di portare ovunque ci sia una persona che lo desidera, che è aperta, questo. E poi la riconciliazione, la pace nei cuori, che poi diventa pace nelle famiglie, che poi diventa pace nella società. Quindi Radiomaria è un po' una mano tesa, che si rivolge a tutti gli uomini, tutte le donne, gli uomini di buona volontà, per incoraggiarli nelle difficoltà della vita, per guardare al futuro con speranza. Mi ero scritta fiducia? E non so oggi in quanti hanno fiducia nel futuro. Forse speranza? C'è sempre questa attenzione in Radiomaria che è davvero speciale, verso i sofferenti nel corpo, nello spirito, le persone sole, gli anziani, i poveri, i carcerati e chissà quanti altri che noi nemmeno sappiamo. Nemmeno sappiamo. Io ricordo un po' di anni fa una conoscente, una ragazza giovanissima, conoscente di amici di famiglia, però era una conoscente più che amicizia di famiglia, mi fa sapere attraverso mia mamma, che lei ha un nonno, che curavano in casa, un nonno malato, molto anziano, che dice, sai Roberta, lui ogni volta che ascolta, lui sta lì tranquillo, proprio, guarda, tu non sai che piacere mi faresti, mi fai questo regalo, posso accompagnarti da mio nonno? E io dico, oh sì, ma non c'è problema, guarda, finisco la diretta, mi prendo mezz'ora e andiamo a trovare il tuo nonno. Andiamo a trovare il suo nonno, io non me lo scorderò mai, non sono riuscita a guardarlo in faccia, perché come lei è entrata nella cameretta, era in penombra, lo ricorderò sempre. Entro, c'era un silenzio incredibile, Radiomaria appena appena sul comodino, ma proprio, si vede che era ancora un buon udito, non era alta, era proprio soft. Io entro e lei dice, guarda nonno, nonno, guarda chi c'è, e lui guarda un attimino, ma giustamente non mi conosceva, e io dico, buongiorno, e lui comincia a alzare il braccio così, e si copre gli occhi. E lei dice, nonno, cosa fai? È Roberta, è di Radiomaria, guarda che è venuta a salutarti. Quindi lui ha coperto con tutte, non ci voleva credere, e si è messo a piangere, quindi non voleva farmi vedere che piangeva, quindi ha coperto gli occhi con le due braccia, e non c'è stato verso. Io l'ho salutato, l'ho dato un bacio sulla fronte, non ha tolto le braccia dagli occhi, non voleva far vedere che era così preso. Mi è sempre rimasto, ho detto, guarda cosa non fa Radiomaria. Ecco, questa per me è stata veramente una lezione, non me la scorderò mai, ma sono già passati una decina d'anni, eh. Sì, sì. Bello. Quindi abbiamo parlato un po' dell'obiettivo, brevemente, eh. Facciamo solo proprio delle pillole su tanti aspetti di Radiomaria. Bellissimo. Bellissimo. Bellissimo.